Bentornati in studio, ci siamo lasciati sull'omicidio di Sharon Verzeni, allora riprendiamo proprio da qui in studio come sempre Michelle Emi, maritato giornalista, ben trovato Michelle. Grazie, ben trovati. E poi in collegamento Skype per questa seconda parte Deborah Saita, freelance. Buonasera Deborah e grazie per essere con noi. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Ecco Deborah, sono riprese proprio questa mattina a Ternodisola le ricerche sull'arma. Chi ha ucciso Sharon Verzeni? Si pensa ad un coltello da cucina o ad un pugnale addirittura. Oltre ad aver scoperchiato Tombini, gli inquirenti si sono poi concentrati sul torrente e sull'area verde proprio di Ternodisola perché stando a quelle che sono le dichiarazioni del sindaco, il parco potrebbe essere stato il punto di fuga dell'eventuale assassino. Che cosa ne pensi di queste dichiarazioni? Potrebbe essere proprio lì il tassello, uno dei tasselli che manca? Ma dalle ultime indiscrezioni viene fuori anche che si sta seguendo anche la pista di un eventuale spacciatore della zona che è sparito combinazione dal 30 luglio almeno, queste sono le ultime notizie che abbiamo avuto attualmente e tramite anche comunque una segnalazione di un testimone che riferisce appunto della presenza di questa persona. E' anche vero che sono state sentite oltre 100 persone nell'arco delle indagini su questo omicidio. Io ipotizzo, visto che ce ne sono moltissime di ipotesi che sono state spiegate in merito a questo caso, che centri perlomeno la pista di Scientology, ma solo come fattore scatenante, perché è strano da dirsi, ma se noi andiamo a vedere anche i grandi titoli che sono usciti in dato di erna nelle maggiori testate nazionali, possiamo notare tranquillamente che si cominciano a intravedere delle creppe nel rapporto, anche se la famiglia non le ravvede o quantomeno non ne ha mai fatto parola dicendo che questa coppia andava d'accordo. Per cui l'ipotesi secondo me che si lega a questa nuova voglia di Sharon di legarsi alla chiesa di Scientology e quindi magari cambiare la sua vita, cominciando forse a uscire fuori da quel circolo abitudinario che aveva, poteva quantomeno indispettire qualcuno. Per cui per quanto mi riguarda l'ipotesi che non sono completamente d'accordo con l'ipotesi che scagiona completamente il compagno, ma per tutta una serie di cose, per alcune affermazioni che sono state fatte proprio dalla famiglia di Sharon, che dice chiaramente, per noi è come un figlio, addirittura dice alla mamma di Ruocco, che può rimanere tranquillamente a casa loro, la casa è grande e via dicendo. Questa affermazione è proprio lì dai genitori di Sharon, da quando la casa della coppia chiaramente è stata messa sotto sequestro dalla notte dell'omicidio. Ecco, però mi sembra un... parliamo di un piccolo paese, diciamo, quindi la reputazione è un po' da cardine, fa da cardine nella vita delle persone. Se noi pensiamo al fatto che la famiglia ritiene di... Insomma, questa coppia andava d'accordo, addirittura il padre di Ruocco dice che quando lui chiede a entrambi, quando gli danno un nipotino, visto che entrambi, lo vorrei ricordare, si sono sposati prima in municipio e poi avevano intenzione di sposarsi anche in chiesa. Lei risponde al suocero, chiedilo a lui. Quindi, come potete vedere, una risposta del genere è la risposta, comunque, a mio parere, di una donna che non ha a disposizione delle scelte condivise. Sappiamo bene, comunque, che avere, comunque, diventare padre o madre dovrebbe essere una scelta condivisa. Bene, la risposta di Sharon, detta proprio durante un'intervista del papà di Ruocco, dice chiedilo a lui. Quindi, questo elemento mi fa, non lo so, mi fa propendere, o quantomeno, che dietro ci sia anche un po' una mentalità, un qualcosa che si avvicina al patriarcale. Secondo me Sharon stava attraversando un momento che era dettato, appunto, da altre esigenze. Probabilmente, forse, secondo me, voleva cambiare qualcosa nella sua vita. Si stava forse riappropriando, in un certo senso, della sua libertà, anche attraverso quelle che sono le amicizie, le nuove conoscenze. Magari questo potrebbe aver creato dei dissidi all'interno della coppia stessa. Sono pienamente d'accordo con questa tesi, secondo me è un'ipotesi che gli inquirenti dovrebbero anche prendere in considerazione, in funzione anche del fatto che, come abbiamo ampiamente visto dai vari reportage, c'è in questa via, nella villetta appunto dove abitano, dove la coppia aveva preso casa, c'è una parte dove vi è una, è contornata ovviamente da questa siepe che vediamo, la siepe è coperta, ricoperta da gelsomino, da una sorta di gelsomino, quindi una pianta abbastanza elastica e all'interno vi è una lamiera molto solida che comunque, dato l'altezza appunto di questa siepe, poteva essere comunque scavalcata facilmente. Anche senza quindi riportare quelle fantomatiche ferite sul corpo di cui tanto si è discusso in questi giorni? Assolutamente Sofia, perché ritengo che il gelsomino, per chi lo conosce o per la famiglia proprio di quella pianta, non può procurare dei graffi, perché è una pianta completamente elastica, è una sorta di rampicante, molto morbido, quindi anche nell'atto di scavalcare non può lasciare delle ferite, perché non ha assolutamente dei rami solidi che possono fare anche un tipico graffio, per dire. E comunque l'alibi del fidanzato è che dormiva. Ora, guardando anche la dinamica di coppia, nel senso… L'alibi è proprio questo, io dormivo, sono stato svegliato alle 4 di notte dagli inquirenti. Esattamente, ci sono tante discrepanze, anche quella di Scientology, quando gli inquirenti vanno dopo 24 giorni, e questa è un'altra cosa abbastanza strana in questo caso, vanno a sequestrare il PC e il cellulare della donna di Sharon, appunto. Ecco, proprio su questo, Michelle, come mai dopo 24 giorni si sequestra il PC e il cellulare di Sharon e questo non è stato fatto prima? Questo purtroppo dipende da chi dirige l'inchiesta, quindi in questo caso dal procuratore, sicuramente avrà avuto i suoi buoni motivi, noi non siamo qui, siamo tutti giornalisti, quindi ci tengo a chiarirlo anche per l'interesse della condottrice, della trasmissione. Non vogliamo dare colpe a nessuno, non vogliamo dare sentenze a nessuno. No, assolutamente, stiamo facendo un'analisi per cercare di sviscerare la questione a 360 gradi, anche per i nostri telespettatori. Nel campo delle ipotesi, però chiaramente queste ipotesi poi diventano importanti quando a capo dell'indagine c'è un procuratore che deve indagare e dopo 24 giorni mi va a sequestrare magari il PC che invece potrebbe essere fondamentale perché magari è fonte di accesso ai social, fonte di accesso a rapporti che magari invece possono rimanere nascosti nella coppia o possono rimanere nascosti in famiglia. condivido con la collega estremamente l'atteggiamento patriarcale del padre e mi hai tolto le parole di bocca perché lo avevo già notato nelle prime interviste e continuo a notarlo, tant'è vero che prima ho detto indagherei nelle amicizie e nelle frequentazioni della famiglia proprio perché probabilmente con la sua forza caratteriale di doversi imporre anche addirittura alla stampa di dire Sharon non conosceva, cioè qui rimaniamo veramente sbalorditi è come quando Papa Francesco ha detto a Pietro Orlandi che Emanuele è morta ma se non lo sappiamo nessuno, 55 milioni di persone non lo sanno stanno indagando, Papa Francesco sa che Emanuele è morta qui stanno indagando, 55 milioni italiani attendono, il padre sa e anche tra l'altro Sergio Ruocco ha permesso di fare una sorta di identikit di quella che è poi il presunto killer quindi mi sembra veramente pazzesco non andare a vedere proprio all'interno di questo però magari sicuramente noi ci sbagliamo, sicuramente è un atteggiamento dettato dal dolore sicuramente è un atteggiamento di una persona corretta che magari non ha mai avuto a che fare con la stampa, con la tv e quindi magari ha anche un po' di soggezione sicuramente sarà così, tutti sono innocenti fino alla prova del contrario quindi chiaramente però un'occhiata in certi ambienti io l'avrei data una cosa importante sulla quale mi volevo un secondo soffermare invece era il fatto che la collega ha detto della stampa che è uniforme purtroppo qui lo dico e non lo nego prendendomi le mie responsabilità chiaramente noi viviamo in una nazione dove la grandissima prostituzione intellettuale della stampa a gettone, sposa delle tesi, le diffonde in maniera uniforme e chiaramente poi tende a far innamorare il popolo di quella verità che viene dettata da determinati apparati della stampa, tv, radio, a gettone magari di chi invece ha interesse a diffondere determinate notizie quindi chiaramente non mi sorprende il fatto che tutti i quotidiani puntino ogni giorno sulla stessa tesi cambiandola in maniera diversa anche non avendo delle prove importanti perché poi ricordiamoci, qui comunque rimaniamo nel campo giornalistico ma al di fuori del campo giornalistico, al di fuori di questo studio televisivo, delle redazioni e quant'altro ci sono i magistrati che devono giudicare in base alle prove ci sono gli inquirenti che devono portare delle prove che sono fatte da indizi qui non ci sono né indizi né prove, si sta andando ancora a tastoni e questa è la cosa molto importante dove se si va a tastoni nell'inquirenza per quale motivo i giornalisti si permettono di dare delle indicazioni e delle sentenze che ancora non esistono quindi anche qui ancora probabilmente ci stiamo avvicinando a questa sentenza mediatica che non vorremmo quindi auspichiamo che la magistratura ad oggi faccia il proprio lavoro che gli inquirenti faccia il proprio lavoro, tutto per il meglio non abbiamo massima fiducia negli organi inquirenti ma che la stampa non sposi determinate sentenze che ancora non ci sono Michele, in merito proprio alla posizione di Sergio Ruocco tu che pensiero hai maturato il suo alibi, è davvero così di ferro? Allora per me Sergio Ruocco è un personaggio che vedo molto unito al padre della vittima Estremamente loquace, che aggiungerei? Esatto, e non capisco la motivazione della loro unione quando molto spesso magari invece fra il suocero e il compagno marito della figlia non c'è poi così tanta, diciamo, confidenza o addirittura, diciamo così come la vogliamo definire? Una sorta di amicizia, ecco, una sorta di amicizia affinché magari poi veramente non si sposano e magari c'è una famiglia e quant'altro qui c'erano anche dei dissapori fra la ragazza e il ruocco per il fatto del bambino come abbiamo ascoltato prima anche dalla psicologa e come abbiamo ascoltato dalla nostra collega quindi non vedo tutto questo attaccamento e non lo vedo di buon occhio non riesco a capire quale sia però probabilmente forse cercando proprio lì potremmo andare a capire e trovare una prova inconfutabile che ci potrebbe dare una strada non la risoluzione ma una strada Ecco, il problema è che ad un mese dall'omicidio manca ancora una strada perché si naviga un po' nel buio, sei d'accordo Deborah? Assolutamente, diciamoci anche c'è un elemento molto importante da tenere in considerazione il padre di Ruocco lo descrive come una persona taciturna che quando lo va a trovare si fa una doccia e si chiude in camera quindi dice chiaramente poi che non parlava molto addirittura Ruocco asserisce in una di queste interviste all'inizio che Scientology era solo una cosa inventata dai giornalisti quando invece gli inquirenti hanno trovato a quanto pare dei bonifici fatti da Sharon alla chiesa di Scientology ci sono tante cose che non tornano in un rapporto penso che l'altro dovrebbe essere informato delle decisioni visto che stiamo parlando di due persone che si sono anche sposate e che poi volevano sposarsi in chiesa stando a quello che ci viene riferito dal padre di Ruocco ci sono tante cose che mi fanno capire che questa ragazza o quanto meno quello che faceva e quello che pensava non era o non era tenuto in considerazione oppure non veniva disquisito o loro come dicono francamente dicono chiaramente che non lo sapevano il padre poi dice mia figlia era cristiana stava facendo un percorso il padre di Sharon questo quindi ci sono molte cose che non tornano perché Ruocco non sapeva per esempio di questa scelta di questi bonifici di Scientology e attribuisce questa notizia a un'invenzione della stampa è un fatto che non riesco proprio francamente a capire che dire sono del parere che bisogna indagare bene andare a fondo il padre di Ruocco continua a dire cercate la soluzione al bar perché da quando è andata a lavorare in quel bar lì è successa questa cosa e continua a propendere per o un avventore del bar che potrebbe diciamo essere l'ipotetico autore di questo omicidio questa è una tesi poi sostenuta sia dal papà di Sharon che proprio dal compagno da Sergio Ruocco esattamente tra l'altro c'è un'altra cosa che ha destato la mia curiosità una delle tante diciamo testimonianze fatte da chi ha vissuto diciamo ha visto gli ultimi istanti l'ha vista negli ultimi istanti di vita Sharon mentre lottava cercava diciamo di arrancare verso la porta di qualcuno si presume cercasse di suonare un citofono per essere aiutata c'è una signora che dice proprio stavo guardando la tv l'ho vista e stava barcollando mi sembrava fosse ubriaca cioè quindi una comunità che più che mi sembra anche un po' tra virgolette impaurita quindi in una condizione normale qui è rilevante anche la testimonianza dell'uomo sul balcone esattamente l'uomo sul balcone che dice di essere uscito a fumarsi una sigaretta poi però lo stesso praticamente prima fa una confessione poi ne fa un'altra inizialmente dice che di trovarsi a letto a dormire poi viene immortalato dalle telecamere gli inquirenti chiedono spiegazioni e dice sì ero sul balcone a fumare ma non ho visto né sentito nulla perché ho problemi agli occhi ho problemi con l'udito avevo rimosso l'apparecchio acustico quindi insomma un po' così particolare come dichiarazione assolutamente io credo che l'assassino conoscesse molto bene la zona sapeva dove erano dislocate quelle telecamere e che sapeva come aggirarle per cui sono del parere che è una persona assolutamente del posto o quantomeno una persona che ha avuto modo di vedere bene il posto se ritorno anche al fatto che si tratta di un piccolo paese quando gira una persona per un paese che non è conosciuta qualcuno ne avrebbe comunque dato notizia qui non abbiamo niente di tutto questo nessuno dei testimoni dice di aver visto nulla del genere tra l'altro so anche che è spuntato un cartello dove c'è scritto in città insomma nel paesino dove viene viene diciamo invitata la popolazione un cartello anonimo a parlare a dire la verità su questo caso per cui secondo me c'è anche una sorta di paura potrebbe essere utile l'uomo in bicicletta che transitava a contromano in via Castagnate proprio nel momento in cui Sharon è stata accoltellata che però dovrebbe essere stato identificato non sono riusciti ancora a mettersi in contatto con lui e un'altra domanda che chiaramente viene spontanea Michele la faccio a te come mai non si è fatto vivo dopo un mese? qui rientra la coscienza personale la paura può orientare tantissime cose che noi magari non possiamo comprendere non essendo magari mai venuti a contatto con una scena del crimine di questo tipo quindi probabilmente è anche da capire la persona che se non c'entra nulla con questo omicidio è anche da capire magari perché potrebbe avere la paura di essere indagato dei precedenti magari un clandestino noi non lo sappiamo e non lo potremo mai sapere finché lui non si palesa quindi probabilmente ci sono delle cose che lo costringono a stare lontano ma che magari non sono correlate con quello che è accaduto la dichiarazione del padre che mi dice mia figlia era cristiana non è che ci tranquillizza perché la figlia fosse cristiana non avrebbe potuto frequentare scientologi ricordiamo che essere cristiani in Italia vuol dire credere in Gesù Cristo ma non di certo vuol dire essere cattolici quindi bisogna differenziare che cosa vuol dire per lui essere cristiana e poi voglio dire lei è libera di frequentare chi meglio crede e comunque la sua imposizione di dire certe cose ci manifesta proprio il carattere patriarcale che potrebbe avere invece indotto la ragazza a cercare delle nuove amicizie a cercare dei nuovi spazi dove qualcuno la facesse parlare dove qualcuno la tenesse in considerazione che potrebbe essere proprio non mi piace chiamarla chiesa ma la chiamiamo organizzazione di Scientology che è basata su un sistema piramidale stile americano multi level dove invece il parlare l'essere messo al centro la condizione di essere un attore principale di quella scena è proprio ciò che magari invece mancava a Sharon coinvolta in rapporti sentimentali con una persona taciturna con una persona che comunque sfugge al discorso al parlare e con un padre che a quanto mi sembra molto dominante dal punto di vista familiare quindi chiaramente probabilmente lei ha cercato una via d'uscita ma non vuol dire che questa via d'uscita che lei ha cercato possa essere quella che ci porta all'omicidio Importante più che mai soprattutto in questa fase sono proprio le testimonianze dei residenti della zona Deborah secondo te gli inquirenti hanno ascoltato davvero tutti? No tutti quanti no stanno continuando ad ascoltare un po' di persone perché se non erro nell'arco diciamo nel visualizzare le telecamere c'erano più di 40 persone all'incirca più di all'incirca una sessantina in più poi stanno emergendo nuovi elementi e quindi sono proprio al vaglio queste testimonianze ma da alcune emerge proprio che non era una coppia idilliaca come ci vogliono fare pensare tant'è vero che c'è un altro fattore che ha destato la mia curiosità per esempio i lavori precedenti che il padre dice di Rocco quando lavorava dai cinesi quando lavorava come estetista queste cose non sono successe da quando lavora in quel bar ecco allora l'estetista i cinesi quindi come commessa questa combinazione si trova a lavorare nel retro di una pasticceria di un bar per cui non c'è più quel rapporto cliente commessa o cliente estetista viene precluso anche questo insomma io non sono sicuramente un'estimatrice di Scientology ma credo che chi si rivolge altrove per trovare una soluzione sicuramente non è completamente soddisfatta di quello che vive in quel momento questo è una mia ipotesi e credo francamente che adesso con l'ascolto c'è stato anche uno dei testimoni che parla appunto di questi spacciatori della zona e ne segnala uno in particolare che dal 30 di luglio a quanto pare si sarebbe dileguato insomma non si fa più vedere e asserisce anche che questo spacciatore estracomunitario saputo della sua dichiarazione lo etichetta come infame e lo invita a farsi gli affari suoi queste sono le varie diciamo testimonianze che stanno emergendo in questo momento però una cittadinanza che vede una ragazza la sera che barcolla e pensa che sia ubriaca dopo aver sentito aiuto aiuto e non scende in strada ma scende solo quando la vede ormai per terra a me sembra una cittadinanza impaurita sicuramente e lì non c'era uno spacciatore c'era una ragazza che stava non stava bene chiaramente penso che un cittadino normale che non ha nessun tipo di problematica legato alla paura sarebbe magari sceso e a vedere cosa stava succedendo non è andata così in quel caso e dice la signora ci siamo accorti che era stata coltellata quando Shano cade per terra non riesce più a rialzarsi si gira su un fianco e loro cominciano a vedere i segni delle coltellate e il sangue per cui è tutto un atteggiamento molto strano credo che qualcuno debba ancora dirci qualcosa sono ancora tante le cose che dovranno essere dette noi chiaramente vi terremo aggiornati con tutti gli sviluppi del caso noi siamo in chiusura grazie Deborah per aver partecipato grazie a voi sempre molto piacere rivedervi e stare con voi e grazie anche a te Michel per essere stato con noi ospite in studio grazie a te grazie a te per l'ospitalità e ringrazio anche voi come sempre per averci seguito fin qui e vi auguro un buon proseguimento di serata grazie a te grazie a te